Salve, sono il dottor culo cane e questo è Super Squartz. La trasmissione che se vede un cane carino finisce subito perché devo accarezzarlo! Oggi parleremo del ciclo dell'acqua che non è una bici per andare sul lago ma bensì è l'interessantissimo viaggio che l'acqua attraversa sul nostro pianeta, Marte! Ehm, Terra? No grazie, ho già fatto colazione. I bicchieri d'acqua nascono dagli alberi dell'acqua. Quando sono maturi si staccano dall'albero. Cadendo si rompono e l'acqua esce dal bicchiere e va a innaffiare l'albero che cresce rigoglione e genera altri goccioli che diventeranno altri bicchieri d'acqua. Nel frattempo gli scoiattori si nutrono dei gocci di vetro. Lo sapevi? Uno scoiattolo può deporre fino a un milione di uova. Ma come nasce un albero di bicchieri? Grazie alle api! Le api si abbeverano infatti ai bicchieri degli alberi d'acqua e poi muoiono perché l'acqua è super velenosa. Che stupide le api! Con il tempo i bicchieri si riempiono completamente di api. Questo attira i pinosauri! Lo sapevi? I pinosauri prendono il loro nome da mio nonno. I pinosauri odiano i bicchieri di api e attaccano gli alberi d'acqua. Questo rovescia ingenti quantità di acqua che scorre via. È così che nascono gli oceani! Gli oceani sono colpa delle api! Maledette! Comunque a volte quando fa molto caldo l'acqua bolle e queste bolle, essendo rotonde come un pianeta, iniziano a orbitare attorno al sole e la vicinanza al sole le trasforma in un gas anche chiamato gas misterioso. Il gas misterioso nel frattempo torna sulla terra perché è attirato dai suoi simili. Lo sapevi? Le uova di Scoiattolo sono un gas nobile insieme a Elio, Argon e Vittorio Emanuele. Una volta che il gas misterioso rientra nell'atmosfera prende fuoco, questo lo scalda e siccome la S privativa indica il contrario della parola scaldare significa far diventare non caldo quindi si raffredda e passa allo stato solido e forse riconoscerete questo solido bianco che cade dal cielo quando c'è freddo. Esatto! È il dentifricio! Lo sapevi? Lavarsi i denti può danneggiare le carie. E ora la domanda che aspettavamo fin dall'inizio del video. Quanti bicchieri di api al giorno sono troppi? No, la domanda è il capitalismo ci sta portando a una catastrofe irreversibile oppure c'è ancora tempo di... La trasmissione è finita! Ciao, buon anno! Questa è la mia faccia normale ho sempre avuto questa faccia questo è Scott G.C. in 7 è uscito in edicola per piacere compratelo l'ho trovato anche online e questa è la mia faccia cioè ci sono il fumettiere Dottor Colocane Scott G.C. in 7 Dottor Colocane che forte questa è la mia faccia